Chieda, arretta il cervello dagli altri, butta via il suo. La televisione è lo specchio dove si riflette la sconfitta di tutto il nostro sistema culturale. Si chiama calma e mi è costata tante tempeste per ottenerla. A volte le persone fanno finta che tu sia una brutta persona per non sentirsi in colpa per le cose che ti hanno fatto. Grazie mille per restare con il Cesta Famiglia. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie mille. Grazie mille.